Partenza valida, attenzione corsia 5 e 4, Realdon e Milo, ed è Realdon in corsia 4, 11 e 53 signori, sfiora il primato italiano, l'atleta, vediamo se viene confermato il tempo, ricordo che il primato italiano è 11 e 48 di Veronica Borsi, 11 e 53, il 20 più 1 e 6, quindi dentro i limiti, grande risultato da parte dell'atleta altoatesina, aspettiamo la conferma comunque di questi risultati perché era una serie qualificatissima, una finale qualificatissima questa degli 80 d'ostacoli cadette. Grazie